Voga 2015, giorno 13. L'argomento di oggi è quali sono l'attività e la stagione migliori della vostra città. Siamo a Siracusa, è una città di mare. Siamo ad agosto, c'è un caldo infernale, quindi NO. NON dirò che è l'estate. Io penso più alla primavera, anche se passo tutta la primavera a starnutendo per colpa dell'allergia. Comunque il clima è certamente migliore, si calma il maltempo dell'inverno, comincia il caldo, ma è piacevole, non eccessivo, e ci sono molte attività culturali e non solo. Per esempio, in primavera a Siracusa c'è la cosiddetta stagione classica, comincia al Teatro Greco un ciclo di spettacoli, di tragedie, di commedie molto interessanti, appunto nella splendida cornice del teatro greco, dell'antico teatro greco. E questo è quello che succede a Siracusa, ma ditemi un po' di voi, qual è la stagione migliore, l'attività migliore che si può fare nella vostra città? Fatemelo sapere su un commento, e come sempre ricordatevi di iscrivervi al canale, di condividere questo vlog e di fare pollice in alto. Bene, io sono Grizzly, questo era il giorno 13 del Voga 2015, noi ci vediamo domani con il prossimo vlog. Ciao a tutti!